Attimi di paura questa mattina nel centro San Luca di Battipaglia per un falso allarme bomba. La struttura è stata evacuata in via precauzionale per permettere agli agenti del commissariato di polizia di Battipaglia di effettuare i controlli del caso ed accertare la reale infondatezza dell'allarme, che sarebbe partito stando ai primi rilevi della polizia da una cabina telefonica di Capaccio Pestum. Traffico in tilt sulla strada statale 18, dove sono state registrate lunghe code per superare la zona interessata dall'operazione.